Svolta a Cervinara, Filomeno De Lucia, ex patron del caro tenuto, è pronto a rilevare l'Audax, l'imprenditore mandamentale e vicino a siglare l'accordo con gli azzurri, dopo un primo incontro con i dirigenti caudini della passata stagione, con a capo Pasquale Ferraro. In panchina con lui non ci sarà più Rino Iuliano, autentico leader delle ultime annate, ma Ciccio Messina. Per l'ex trainer di San Tommaso e Solufra si tratterebbe di un ritorno. In attesa dell'ufficialità delito all'ombra del Canada Cioffi, i tifosi tirano un sospiro di sollievo. Si era parlato nelle scorse settimane di un interessamento all'Audax di Michele Giordano, ma la trattativa non sarebbe andata in porto. Luigi Sanchez è il nuovo tecnico del Nola, dopo la promozione indicola marianese e salvezza conquistata ad Angri, il mister napoletano riparte dai bianconeri insieme a Alfonso De Lucia. Il Solufra annuncia anche Mirko Di Giacomo, difensore centrale classe 90, ha già giocato in eccellenza indossando le maglie di calze del San Giorgio, Gifu, Lise Casali, Piccio, Lafaiano. Nella passata stagione per lui anche tre reti, altro colpo per il DS Marco Iovino. Rocco Fiume invece a Castel San Giorgio riabbraccia altri due ex Solufra, il bomber Simone Di Giacomo che ritrova l'altro compagno reduce da una grande annata nella concia Sabatino e Luca Cuomo, difensore che insieme a Rocco Fiume in quel Solufra ha diretto alla grande la retroguardia.